Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo in Clash Royale Apriamo direttamente il baule della corona, apriamo quel botto e... Soldi, due gemme vanno sempre bene Una valchiera, me ne servivano di più, barbari non mi servono Ok, questo va bene e... E... gigante royale, che schifo Come vedete qua un baule, ah l'ho aperto, bene Perfetto, non poteva, non poteva andare meglio Meglio, cominciamo già col cimitero, almeno così si chiama Dov'è, dov'è, dov'è il cimitero? Andiamo a cercarlo subito, subito con due b No, seriamente, dov'è il cimitero? Dov'è andato il cimitero? Ah, eccolo qua, cinque Bene, eh, quanti ne fa spawner però? Una gang di scheletri in qualsiasi punto dell'arena Beh, beh, è malo, non potevo desiderare meglio Usalo... Chi potrebbe usare? A posto di chi? Beh, ho un'idea Togliamo il minatore che è il suo stesso effetto E qui ci mettiamo i goblin lancieri Aveva aumentato di uno il prezzo ma... Fa niente Andiamo a spaccare qualsiasi cosa che vediamo Oh, Royal, Arena Royal Si, sono salito Pensavo di scendere subito perché ho detto non duri in quest'arena E invece sono andato a più di 200 coppe Dalla zona retrocessione La chiamo così, zona retrocessione Non suona male Anche se sarebbe esattamente così La tattica col cimitero non è ancora ben precisa allo sblocatore Quindi io direi butto il domatore e poi butto oppure no Tattica, 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 tattica Ah, chi cavolo butto Io ci provo Butto Valkyria E dopo Qua Blamete No, mi ha sgammato Ah no Guardi ne spawnano Ah, le f... Eh, non se l'aspettava Non se l'aspettava Tac Là dietro l'ha buttato Con la sabbia Ok, però adesso cosa fa? Si è arrabbiato Vabbè, tanto io butto Butto questi che Sono cattivi, arrabbiati E... No, cavolo E l'ora di scheletri Adesso me la butta lui Eh, resisti Resisti Si, vabbè, ormai è andato Ormai No, 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 no Sto perdendo Sto perdendo Sto perdendo Ho un'idea Eh, butto di là E dopo glielo butto dall'altra parte Vediamo un po' Valkyria Valkyria Vai, 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 vai Vai, Valkyria Vai, fatti onore E... Adesso te lo butto lì Pessima No No, ti prego Mi sta distruggendo Oh, cavolo Pessima idea Bravo Adesso l'ho presa io Male E... Gli butto Gli ne butto un altro? Ok Chi vince? Moschettiere o moschettiere? Vabbè, dai, navalchiere Non potete Prendere problemi Da navalchi Eh, beh, una buona parte Glielo ha distrutta E l'altra parte Però mi ha distrutto lui Vai Gravy Nooo Non va bene Cosa fa? Oh Non male Però ora mi distrugge Ok L'ho sfruttata male L'ho sfruttata male Decisamente nel peggiore dei modi Non vado Non vado Cioè vado a pareggiare Non vado a vincere Perché Vinco magari dopo Ma adesso Non è C'è un luogo E un momento per ogni cosa Ma non Tiè Ah, me l'ha già buttato giù Me l'ha già Sono morto Sono morto Perché tutte le volte Che registro Perché tutte le volte Che registro Faccio Schifo Ho cominciato bene Però dopo Via Finito Va bene Contro la prima torre Contro la seconda Devi Devi buttarci una truppa Di Non di assalto Tipo il gigante Apriamo quella gratis E niente Qua ci sono solo io online Ma vabbè Mmm Cosa potrei cambiare Vabbè Vedi Proviamo così Eh ma il gigante Non No Si dai gigante 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 Lo metto al posto di cosa No la valchiera Al posto del domatore E al posto di Come si chiamano Come si chiamano Questo Ah si Al posto No Non moschettiere Moschettiere mi serve Al posto dei goblin Ci metto la furia E' un po' un azzardo Perché non so nemmeno io Come funziona sto Dag Che ho appena Inventato in diretta Ma cerchiamo di farselo capire Ma cerchiamo di farselo capire Non un po' per ora Ma Eh ok Principe Proprio fate la famigliola qua Perché non ha funzionato Perché non li ha fermati Mi ha tolto tutta la vita È normale sta cosa Vai Eh cavolo Tac tac Non gli fa niente Non gli fa niente Non gli fa niente Allora sto giocando Da schifo Dovevo giocare Quando facevo schifo Prima Così vincevo Eh vabbè il domatore Va Sono demoralizzato Vai 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 Eh non mi cliccava Cos'è Funziona Qualcosa mi dice Che non se l'aspettava Qualcosa altra Invece mi diceva di sì Dopo aver visto Tutti quei cosi Che sbuccavano Da sotto terra Sì Ha capito Ma la furia La uso Come la uso Vabbè I sgheri Debolissimi Li riesce a gestire Li riesce a gestire E non fa tantissimo danno Per il principe nero Ce l'ho anch'io Che non vuol dire Tipo se ce l'ho io Fa schifo Ma L'ho provato Una volta E livello 1 Non è che sia tutto Sto granché Non mettere l'orda Non mettere l'orda Bravo Ora però metto la furia E mette Mette la furia Dopo che metto l'orda Ma non è una roba Da stronzi questa Sì Ma davvero Da stronzi Valkyria Così li metto Tutti lì Ne qua Non so cosa fare Qua si metto Beh Azzardata Azzardatissima E ho perso la torre Ma perché proprio Oggi dovevo giocare Glacier Royale Perché proprio oggi Dovevo giocare Glacier Royale Non lo so Tac Vi è andata Decidetevi però O uno o l'altro Questa è piuttosto debole E mi ha distrutto Eh già Addirittura da un'irlandese Ma neanche una torre L'ho buttato giù Direi ripristiniamo Quello di prima Che almeno con quello Vince O no Sì 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 Almeno con quello Qualcosa Almeno con quello Una torre L'ho buttata giù Dove è il domatore Che l'ho perso di vista Eccolo qua Così La furia Beh la furia Con domatore Ci sta anche troppo bene Apriamo l'ultimo E qua nel senso Un online Proviamo Proviamo almeno Stavolta Vai Dai Così Motivazione Motivazione Tipo generale Me l'aveva detto Mr. L In un In un libro Che mi ha detto Il primo È il mio primo giorno Divertitevi Morale a zero Stessa roba Solo che qua Non è il mio primo giorno Anzi Tac Non è servito a niente Beh non può fare niente Qualcosina Glielo fa Odio Eh beh Non male Ha buttato una furia Forse Leggermente Non mi ha fatto Non mi ha fatto Tutto sto male Ora Dobbiamo trovare Il modo giusto Di sfruttare Il cimitero L'altra volta Valkyria Valkyria Poi cimitero Ha funzionato Quindi io direi Reproviamoci Esattamente Così Vai Adesso ci butto Anche la furia La furia Di scheletro Ma che è Che è sta Bestemmia Ce l'ha fatta No È già finito Che partita Di merdo No Non si Stesse parole Che sono Stesse parole Oh Modera 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 Il linguaggio Italiesco Vedete Lui Lui mi ha buttato Non ancora Io sono a 261 Lui è a 2000 C'è qualcosa Che non va qua E mi A caso Mi ha anche preso Il domatore Ma vabbè Ma Che è sta roba qua Ma è tutte le Allora L'unica fortuna Di adesso È che non ho trovato La scintilla Almeno quello Non l'ho trovata Per fortuna Ora butto Il cimitero Dove lo butto Il cimitero 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 Mi sa che un po' Se lo aspetta Andiamo Butto anche la furia Perché Perché io sono un pazzo Un maled... Eh sì Eh sì Però 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 Non va Non va Non va assolutamente Io il cimitero Lo scarto E giù Tutte Quante cose le ho perse Mentre ho registrato Voi te che avete visto Però Sono ancora In arena 7 E questo Quello che No Non conto un cazzo Torre inferno Buttatagli a caso Perché tanto ormai La motivazione è scesa È scesa di troppo Spero Mi butti giù Almeno quella torre Via col domatore Vabbè Ormai Ormai 15 secondi Non posso fare nulla Almeno penso Sì Non posso fare nulla Non posso Proprio fare nulla Eh Almeno Non mi butto giù la torre Almeno 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 Ok Non mi ha buttato giù la torre Ah 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 Cazzo Cosa rido Che sto che ho perso Ne ho perse 3 di fila Sono sceso Di quante No Neanche tante go Però Io No 48 Non c'è nessuno Online È stato È stata una A parte A parte all'inizio Che abbiamo trovato Il cimitero Che è stata una roba Tipo adesso Vinciamo il mondo No È stata una cagata O almeno finché Non trovo un deck Apposito Che non è questo Se volete un deck simile Per il Per il cimitero Sparatevi Sparatevi Più che altro Perché Sono io che l'ho inventato Quindi È un È un Il deck Si chiama Guarda che bel deck No cazzo Fallo fuori Ti prego Butta via il gioco Rompi il telefono Ma non fammi vedere Più quel deck Identico Vabbè Due gemme Le butto Per vedere Se troviamo qualcosa Di utile Ma Ma ho qualche dubbio Sì Sì Avevo qualche forte dubbio No Non lo apro adesso 18 No Decisamente no Niente Online Uno Non posso neanche donare Beh No Non ho che magari Mi metto qua mezz'ora E Un bisogno di 50.000 minuti Non è bello Penso Qua non sono anche Carri per comprarmi Non sono anche soldi Per comprarmi Questo Sono in povertà totale Beh A parte No Non scioppo O non ancora Almeno No State tranquilli Non scioppo Non scioppo Detto questo Spero che il video Vi spero che Più che altro Spero vi sia piaciuto Vedere Che mi sono Proprio dato la zappa Su entrambi i piedi Facendo quel deck lì E di quante Abbiamo buttato Ecco lì Uno Abbiamo buttato giù Un attore In tutto l'episodio Record negativo Io spero che non andrà mai peggio Perché se no Veramente io Clash Royale Dove si installo Non vi chiedo Non vi dico neanche Se il video vi è piaciuto Perché Se dite sì Se dite sì Vuol dire che avete Guguto Vedere che sono morto Se dite no Vuol dire che No è giusto Vuol dire che No non sono io Caccavolo Vuol dire Perché sto pensando A che da accusare Devo concludere l'episodio Ma non so come concludere Vabbè Ciao a tutti E ai prossimi episodi